Dunque mi piacciono i lama, i gatti, i cartoni animati. Le serie, i film, i telefilm, i film d'animazione, i viaggi, ed il mio ultimo viaggio mi ha profondamente ispirata per la realizzazione del mio primo album di inediti. Lo sto interamente registrando con il mio team di autoproduzione musicale, How the Deer! Ci servirebbe il vostro supporto per la realizzazione di mix e mastering professionali. Le ricompense sono svariate e tutte inerenti alla musica che è la vera protagonista. Si potrebbe dire signorina che abbiamo la soluzione, servono dei Razer. Quanti Razer? Dottore? Almeno 250. Entro quanto? Due mesi. Si può fare. Si può fare! È tutto chiaro, ci vediamo alla prossima seduta. Arrivederci. Arrivederci. Vi ringraziamo e vi ringrazio personalmente per il vostro supporto. Spero di realizzare qualcosa di bello. 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 Spero di realizzare qualcosa di bello.